Nico! Tu non sei Orione? Si lasciò sfuggire Nico. Un commento stupido, ma era la prima cosa che gli era saltata in mente. L'uomo di fronte a lui non era un gigante, questo era chiaro. Non era abbastanza alto, non aveva le zampe da drago, non aveva arco e faretra, e nemmeno gli occhi simili affari che Reina aveva visto nel suo sogno. L'uomo grigio rise. Direi proprio di no. Orione mi ha soltanto arruolato per assisterlo nella sua caccia. Io sono... Licaone! Lo interruppe Reina. Il primo lupo mannaro. L'uomo rispose con un inchino di scherno. Reina Avila Ramire Sareiano, pretore di Roma. Uno dei cuccioli di lupa. Lieto che tu mi abbia riconosciuto. Senza dubbio devo fare parte dei tuoi incubi. Delle mie indigestioni, forse. Dal sacchetto che portava appeso alla cintura, Reina estrasse un coltello pieghevole da campeggio. Lo apri di scatto e i lupi ringhiarono, arretrando leggermente. Non viaggio mai senza un'arma d'argento. Licaone scoprì i denti. Pensi di tenere a bada una decina di lupi e il loro re, con un temperino? Avevo sentito dire che eri coraggiosa, figlia romana. Non immaginavo che fossi temeraria. I cani di Reina si acquattarono pronti a saltare. Il coach impugnò la sua mazza da baseball, anche se per una volta non sembrava molto ansioso di passare all'azione. Nico portò la mano sull'elsa della spada. Lascia perdere, borbottò il coach fra i denti. Questi qui si possono ferire solo con l'argento con il fuoco. Gli ho incontrati una volta a Pike's Peak. Sono una seccatura. Mi ricordo di te, Gleason Edge. Gli occhi del lupo mannaro luccicavano come lava fusa. Il mio branco sarà felicissimo di mangiare carne di capra per cena. Edge sbuffò. Fatti pure avanti, cane rognoso! Le cacciatrici di Artemide stanno per arrivare proprio come l'ultima volta! Quello laggiù è un tempio di Diana, idiota! Sei sul loro territorio! I lupi ringhierono di nuovo allargando il cerchio. Alcuni lanciarono occhiate nervose ai tetti. Licaone si limitò a squadrare il coach con aria malevola. Ci hai provato, Satiro. Ma temo che il tempio porti il nome sbagliato. Sono passato da queste parti in epoca romana. In realtà era dedicato all'imperatore Augusto. Tipica dimostrazione di vanità semidivina. E comunque sono diventato molto più prudente dopo il nostro ultimo incontro. Se le cacciatrici fossero nei paraggi, lo saprei! Nico cercò di farsi venire in mente un piano di fuga. Erano circondati e in inferiorità numerica. La loro unica arma efficace era un coltellino da campeggio. Lo scettro di Diocleziano era perduto. La Tenapartenos era in cima al tempio, a una decina di metri di altezza. E anche se l'avessero raggiunta, non avrebbero potuto viaggiare nell'ombra finché non ci fosse stata una vera ombra in cui viaggiare. Mancavano ancora diverse ore al tramonto. Non si sentiva affatto coraggioso, ma fece un passo avanti. E così ci hai preso! Che cosa stai aspettando? L'Icaone lo studiò come se fosse un nuovo taglio di carne nella vetrina di un macellaio. Nico di Angelo, figlio di Ade. Ho sentito parlare di te. Mi spiace non poterti uccidere più prontamente, ma ho promesso al mio datore di lavoro, Orione, che ti avrei tenuto prigioniero fino al suo arrivo. Ma non temere, sarà qui fra pochi minuti. E quando lui avrà finito con te, verserò il tuo sangue e marchierò questo luogo come mio territorio per secoli! Nico digrignò i denti. Sangue semidivino! Il sangue dell'Olimpo! Ma certo! Rispose Licaone. Versato sul terreno, soprattutto su un terreno sacro, il sangue semidivino può avere molti usi. Con gli incantesimi adeguati può risvegliare mostri o perfino dei. Può far sgorgare nuova vita o rendere sterile un luogo per generazioni. Ahimè, il tuo sangue non risveglierà, Gea. Questo onore è riservato ai tuoi amici del Largo 2. Ma non temere, la tua morte sarà dolorosa quanto la loro. L'erba attorno ai piedi di Nico cominciò a morire, le aiuole di margherite appassirono. Un terreno sterile, pensò. Un terreno sacro. Ricordò le migliaia di scheletri nella cappella delle ossa. Richiamò alla mente quello che aveva detto Ade a proposito di quella piazza, dove l'inquisizione aveva bruciato sul rogo centinaia di persone. Quella era una città antica. Quanti morti giacevano nel terreno sotto i suoi piedi. Coach, disse, può arrampicarsi? Edge fece un verso di scherno. Sono per metà capra. Certo che posso arrampicarmi. Allora raggiunga la statua e fissi l'imbracatura. Faccia una scaletta di corda e la getti giù per noi. Ma il branco di lupi... Reina, continuò Nico, tu e i tuoi cani dovrete coprire la ritirata. Il pretore annui cupamente. Capito. Licaone ululò una risata. Ritirata? E dove andrete, figlio di Ade? Non c'è via di fuga, non potete ucciderci! Forse no, replicò Nico. Ma posso rallentarvi. Allargò le mani e il terreno esplose. Nico non si aspettava che funzionasse così bene. Aveva già tentato altre volte, ma in piccolo. Scheletri di ratto, qualche teschio. Niente che lo preparasse al muro di ossa che schizzò verso il cielo. Centinaia di femori, costole e fibule si dissotterrarono all'improvviso, imprigionando i lupi dentro spigolosi grovigli di resti umani. La maggior parte del branco rimase intrappolato, senza possibilità di uscita. Alcuni animali si divincolavano e digrignavano i denti, cercando di liberarsi da quelle specie di gabbie. Lo stesso licaone era immobilizzato in un bozzolo di costole, che non gli impediva però di gridare imprecazioni. Tu, inutile marmocchio! sbraitava. Ti strapperò la carne a morsi! Vada, coach! disse Nico. Il satiro si lanciò con uno scatto verso il tempio. Arrivò in cima al podio con un solo balzo, e poi prese a salire arrampicandosi sulla colonna di destra. Due lupi si liberarono dal loro intrico di ossa. Reina lanciò il coltello e ne trafisse uno sul collo. I suoi cani si gettarono sull'altro. Le zanne e gli artigli di Aurum scivolavano inutilmente sulla groppa del lupo, ma Argentum lo abbatté. La sua testa era ancora piegata dalla battaglia di Pompei e non aveva più il rubino nell'occhio sinistro, ma riuscì lo stesso ad affondare i denti nella collottola del lupo. La bestia si dissolse in una puzza di tenebre. Grazie agli dèi per i cani d'argento! pensò Nico. Reina estrasse la spada. Vai! gli disse. Ti copro io! I lupi continuavano a divincolarsi, facendo tremare e crepitare il cumulo di ossa. Licaone liberò il destro e cominciò a distruggere la sua prigione di costole. Ti scuoglierò vivo! promise. Aggiungerò la tua pellaccia al mio mantello! Nico scattò, fermandosi solo il tempo necessario a raccogliere da terra il coltello di Reina. Non era una capra di montagna, ma trovò dei gradini dietro il tempio e corse sul podio. Raggiunse la base delle colonne e scrutò verso l'alto, socchiudendo gli occhi. Ege era appollaiato in modo precario ai piedi dell'Atena Partenos, intento a districare corde e ad annodare una scaletta. Si sbrighi! urlò Nico. Oh, davvero? replicò il coach. E io che pensavo di avere tutto il tempo del mondo! L'ultima cosa di cui Nico aveva bisogno era il sarcasmo di un satiro. Giù nella piazza altri lupi si liberarono dalle prigioni di ossa. Reina li respingeva menando colpi col piatto della spada, ma non sarebbe riuscita a tenerli a bada a lungo. Aurum ringhiava e mordeva l'aria per la frustrazione, incapace di ferire il nemico. Argentum faceva del proprio meglio e affondò gli artigli nella gola di un altro lupo, ma essendo già danneggiato, non avrebbe tardato molto a essere sopraffatto. Licaone liberò entrambe le mani e cominciò a tirare fuori le gambe dalle ossa che lo racchiudevano. ancora pochi secondi e sarebbe stato libero. Nico non aveva più assi nella manica. Evocare quel muro di ossa lo aveva prosciugato. Il viaggio nell'ombra avrebbe richiesto tutte le energie che gli rimanevano, sempre che fosse riuscito a procurarsi un'ombra. Un'ombra? Guardò il coltello d'argento nella sua mano ed ebbe un'idea, probabilmente la più stupida, folle idea che avesse mai avuto da... Ehi, porterò persi a farsi una nuotata nell'ostige! Così mi amerà! «Reina, sali!» gridò. Lei mollò un'ultima botta in testa a un lupo e corse via. A metà strada diede un colpetto alla sua spada che si allungò in un giavellotto e lo usò a mo' di asta d'assalto in alto, atterrando accanto a Nico. «Qual è il piano?» chiese. Non aveva neanche il fiatone. «Esibizionista», borbottò lui. Una corda annodata cadde dall'alto. «Salite, caprette mancate!» gridò Edge. «Vai!» disse Nico. «E quando sarai su, tieni forte la corda!» «Nico, fallo!» Il giavellotto si ritrasformò in spada. Reina la rimise nel fodero e cominciò ad arrampicarsi, scalando la colonna nonostante il carico dell'armatura e dell'equipaggiamento. Giù nella piazza, Aurum e Argentum erano spariti. Ritirati o distrutti, impossibile saperlo. Licaone si liberò dalla sua gabbia con un ululato di trionfo. «Soffrirai, figlio di Ade!» «Sai che novità!» pensò Nico. Nascose il coltello nel palmo della mano. «Vieni a prendermi, cane rognoso! O devi fare il bravo cucciolotto finché non si presenta il tuo padrone!» Licaone balzò in aria, gli artigli sguainati, le zanne scoperte. Nico impugnò la corda con la mano libera e si concentrò, un rivolo di sudore lungo il collo. Quando il re lupo gli piombò addosso, Nico gli conficcò il coltello targento nel petto. Tutto attorno al tempio, i lupi ulularono all'unisono. Il re lupo gli affondò gli artigli nelle braccia. Le zanne si fermarono a meno di un centimetro dal suo viso. Nico ignorò il dolore e spinse il coltello fra le costole di Licaone, giù fino all'Elsa. «Renditi utile, cagnolino!» ringhiò. «Ritorna fra le ombre a cui appartieni!» Licaone rotò gli occhi e si dissolse in una pozza di oscurità assoluta. Dopodiché accaddero diverse cose in contemporanea. Il branco di lupi si lanciò all'attacco. Da un tetto vicino, una voce tonante urlò «Fermateli!» Nico udì distintamente il rumore di un grande arco che si tendeva. Poi si sciolse nella pozza d'ombra di Licaone, portandosi dietro i suoi amici e l'Atena Partenos, e scivolò nel gelido etere, senza la minima idea di dove sarebbe emerso.